Dopo anni di battaglia il Palazzo della Vergogna è rimasto in uno stato di grave fatiscenza ed è circondato da materiale di risulta, montagne di rifiuti e agli angoli dell'edificio. Dalle finestre rotte entrano ed escono volatili che riempiono quotidianamente lo stabile di deiezioni rendendolo una bomba ecologica. Così Domenico Pettinari, presidente del neonato movimento politico Pettinari per l'Abruzzo che oggi ha incontrato la stampa per denunciare lo stato in cui versa il palazzo che si trova al Civico 61 di Via Lazio a Montesilvano. E ha lanciato un appello ai sindaci di Pescara, Carlo Masci e di Montesilvano, Ottavio De Martini. Oltre agli attivisti siamo con i nostri consiglieri comunali Caterina Artese e Massimiliano Di Pilla e i coordinatori di Montesilvano Città Sant'Angelo del Movimento Pettinari per l'Abruzzo, Michele Cavaliere, Donato Spagnoli e Legna Di Martino. Siamo tornati qui perché dopo anni e anni di battaglie siamo riusciti a far sgomberare questo palazzo che era pieno di criminali, di elinquenti e non ricordiamo quello che c'era all'interno. Io ho sempre definito questo il palazzo della vergogna molto più pericoloso del ferro di cavallo. Ma siamo tornati perché adesso sta in grave stato di faticenza. Chiedo anche una perizia statica per verificare se questo palazzo è in sicurezza perché noi abbiamo anche riscontrato diverse volte che cadevano calcinacci. La prima cosa che chiedono i cittadini e noi naturalmente ci facciamo portavoce, porteremo il caso in consiglio comunale, una grande opera di bonifica perché quest'area deve essere messa in sicurezza e pulita. Poi la nostra proposta è quella di riqualificare abbattendo e ricostruendo qui un palazzo ma può essere anche, può diventare una casa dello studente in collegamento con lo Stella Maris che sta proprio qui vicino che diventerà una struttura dell'Università Gabriele D'Annunzio. Ma si faccia subito, si faccia presto. La stragrande maggioranza del palazzo è di proprietà del comune di Pescara e insiste sul territorio di Montesilvano. Quindi i due sindaci di concerto tra di loro devono risolvere questo problema. È un problema che noi denunciamo da anni, ormai è diventato insopportabile, i cittadini non ce la fanno più, si faccia presto. Noi naturalmente non smetteremo oggi anche perché da tantissimi anni continueremo a battagliare finché questa situazione non venga risolta.